Una riunione nel pomeriggio di ieri tra i consiglieri comunali del PSE, Giovanni Ciparrone ed Enzo Paolini, con i genitori e i bambini che frequentano il doposcuola gratuito, la cui sede, aperta dal PSE, è stata incendiata con dolo. All'interno del circolo, infatti, non si svolgeva solo attività politica, ma un servizio gratuito di doposcuola per i bambini più disagiati, dove ragazzi delle scuole elementari e medie facevano i compiti e giocavano in tranquillità. Dall'incontro è emersa la volontà di rispondere con atti di civiltà al vile gesto. Molti commercianti, infatti, hanno messo a disposizione gratuitamente locali vuoti per consentire ai 60 ragazzi di proseguire nelle loro attività. E in tanti, tra genitori e cittadini, hanno dato la loro disponibilità a lavorare per ricostruire il circolo placido Rizzotto del PSE. Un gesto, ha detto Paolini, che fa emergere il lato buono di questa città, che risponde agli attacchi con azioni di civiltà e solidarietà.